Buongiorno a tutti, sono Mario e oggi vengo a presentare l'hotel Europa, un hotel a tre stelle nel parco agricolo di sud di Milano. Prego, benvenuti. L'hotel Europa è una struttura a tre stelle che nasce al centro del parco agricolo del sud di Milano, abbiamo 48 camere. I nostri ospiti apprezzano della struttura, il fatto che abbia delle camere molto larghe e spaziose, il parcheggio gratuito di fronte all'hotel. Inoltre abbiamo un ristorante interno che fa cucina napoletana e pizza napoletana. Abbiamo deciso di aprire la nostra struttura al cicloturismo per proporci come punto di snodo centrale per i cicloturisti di questa zona, essendo proprio al centro di un grande snodo di piste ciclabili. Il cicloturismo sta vivendo un grosso sviluppo in questo periodo e quindi sia con le nostre camere che con il nostro servizio di ristorazione ci proponiamo di dare un servizio a tutti i cicloturisti che verranno a visitare il parco agricolo del sud di Milano. Abbiamo la nostra referente al cicloturismo che è una appassionata di bici che adesso vi dirà di più. Ciao, sono Manuela, faccio parte dello staff dell'hotel Europa, ciclista da una vita, nata e cresciuta in queste zone. Ho una conoscenza ottima del parco sud agricolo. Ci troviamo al centro dei tre grossi navigli, Naviglio Grande, Naviglio Pavese e Naviglio di Bereguardo. Proponiamo giri di diverso tipo, di diversa lunghezza, adatti sia a famiglie che a cicloviaggiatori già abituati a lunghe distanze. Oltre a queste lunghe piste ciclabili che ci possono portare da Pavia Milano, ci sono anche parecchi sentieri immersi nel verde, fra cascine, risaie. Quello più conosciuto è camminando sull'acqua o la via Lattea. C'è la possibilità di partire qua dall'hotel Europa dopo un'ottima colazione che serviamo ai nostri cicloviaggiatori e fare un bel giro ad anello e rientrare apposta per il pranzo. Se venite con me vi accompagno alla volta del Naviglio di Bereguardo fra le campagne, le risaie e il verde rilassante della nostra zona. Allora come avete visto in pochi minuti siamo arrivati sul Naviglio di Bereguardo. Se andiamo verso destra proseguiamo verso Abbiategrasso da dove poi si può arrivare o a Milano passando per la bellissima Gaggiano, Corsico e si arriva fino al Naviglio Grande. Oppure andando verso sinistra si arriva direttamente a Bereguardo dove si può fare un giro al Ponte delle Barche e entrare nel parco del Tircino e rientrare tranquillamente all'hotel Europa di Rosate. Siamo arrivati all'hotel Europa, abbiamo finito il nostro primo giro, ora vi aspettiamo per i prossimi per conoscere altre zone del Parco Sud Agricolo di Milano. Grazie. Grazie.